Gilberto Benetton, fondatore insieme con i tre fratelli del gruppo Tessile Veneto nel 1965, è morto lunedì sera nella sua casa di Treviso. Aveva 77 anni. Gilberto, che gestiva la finanza dell'azienda, è stato uno dei fautori dell'innovazione dei metodi di produzione del gruppo, cambiando nelle strategie di vendita e di marketing attraverso un nuovo linguaggio pubblicitario. È stato vicepresidente di Autogrill e Atlantia e di recente era finito al centro delle polemiche dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Grazie.